la cosa bella è sapere che il nostro che che il nostro timoniere sta ecco praticamente ubriaco allora vedo una nave una possibile sloop ad est c'è ancora la bandiera su non ho visto non riesco più ad avere il timone aiuto si si è quella col cuore vero si ti serve un altro secchio che fatica a girare sto timone dov'è il ditto ci serve per fare il ride no siamo già possiamo in quattro oggi sono cascati in acqua aiuta tata sbatti la braccia come il bravo tipo del documentario ciao tata ma dove è la sirena guarda in preda il panico guardatela tutti guardate la cattiva oggi non vedo più dato sott'acqua no eccola ma non posso fare dov'è la sirena ma che schifo dove l'ho avvisato senti ma vuoi caricare la dose vabbè ma aspetto qui la sirena o aspetta rispettare che cacchio suoni ma hanno trovato l'ho trovata l'ho trovata via tutto indietro tutto indietro via 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 sì assolutamente ancora ancora tutto il timone tutto da una parte via subito tirano su subito tirano su ma porca puttana ma perché a noi non ci arriva ero lì da due ore non arrivava mai ma se stavate dormendo non è vero stavate dormendo stavo facendo un riposino ok con gli occhi molto stanchi io sto mangiando e stavo guidando io sto mangiando e non puoi comandare il mio stomaco sì che posso però guardate che bell'isoletta la caspita ora faccio la soltarina ecco la carina però è gigantesca indovinate abbiamo il vento contro andiamo ad aiutarli poveretti che hanno uno slu anche perché siamo alleati e infatti di fonti forse metteranno più avanti con il suo raffogato ci stava ma guarda li stanno inculando proprio letteralmente cerchiamo di tenerli sulla nostra destra così li bombardiamo con i cannoni perché se tu sei dietro di loro almeno non è i cannucchi si avvisano i signori passeggeri che una nave alleata sta venendo bombardata da dei terroristi i signori passeggeri sono pregati di diventare dei soldati della milizia grazie grazie per aver scelto lo svizzero affogato ok ragazzi prepararsi i cannoni ma se io ti può adesso viene per casa no non ci provare di essere secondo me ragazzi mi raccomando a non colpire gli alleati a non colpire gli alleati cosa funziona quali sono gli alleati quelli più piccoli ok ma perché stiamo girando dalla parte sbagliata perché stavano tirando anche loro madonna sul cascato di scopo quindi li avremo sulla sinistra adesso si sulla destra sinistra destra si sa di fianco no questi sono gli alleati ci schiantiamo ci si era ok stai rimbarcando un sacco di acqua stai rimbarcando ottimo prendete i tesori ecco che sto provando e sto cercando non trovo un cazzo ah merda no ma che cazzo ma che sono bloccato eh vaffanculo è nero bagato chiamate i carabinieri no ho chiamato un dottore carabinieri la nave sta affondando per caso sta affondando si mi serve aiuto no mi hai buttato lì sotto non ci credo no sono morto mi ha buttato sotto no ok mi hanno solo bagato ragazzi c'è un teschio nelle mani dobbiamo ritornare lì dove è affondata la nave ok sto arrivando cavoli se continuiamo così andiamo contro lo scoglio gira gira no no vabbè no no va bene gira più velocemente ah già è colpito e siamo senza palle di cannone ce l'ho io ce l'ho io adesso le carico ok va bene scusa ma l'altra nave è affondata non solo l'ha affondato ok ci siamo vai ne è rimasta una sola si ok di sotto dovrebbe essere a posto per ora perfetto ahia ok magari cerchiamo anche ad avvicinarci così vediamo a vedere dentro di prendere il tesoro prima che affondi infatti io mi sto andando a schiantare contro di loro ok ok uno viene con me un altro rimane a riparare la barca eh io rimando a riparare 2 1 ok sono dentro è rimasto qualcuno a riparare la barca? si io tranquilli ottimo merda quanti sono? eh non trovo un tesoro non trovo il tesoro eh eh ma cazzo tu ma quanta potenza di fuori non trovo il tesoro che va io che cazzo mi punto sempre tutto cazzo di fucile deficiente ci stiamo per schiantare di nuovo dov'è la nave sulla nostra destra o sinistra? ok sono ritrovato sulla nostra abbiamo fatto l'evacuazione io mi stavo buttando l'acqua perché nel frattempo no giro 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 sono quasi affondato comunque sono quasi affondato viene a scaricare l'acqua aspetta che c'è un buco ok basta basta colpia tanto è quasi affondata non so perché male all'ultima palla ok ci potremmo anche farmare il Torio oh le vele, le tre vele ragazzi sono troppe però aperte dobbiamo andare più lenti ci dobbiamo sparare ok ok alzo la mia ok affondata affondata ottimo vedo a cambiare fucile questo non va bene oh mamma quanti buchi mi serve il legno faccio te che hai le munizioni intanto caricale arrivo caricamento caricamento qua sinistra a posto si a parte questo ma ne arrivano all'infinito no no tata vieni qui prendi ste due palle di cannone prendi anche questa ok ok grazie arriva questo rumore è l'altra nave che sta arrivando deve spawnare eccola eccola ah sul fianco sinistra sinistra ok se riesci a avvicinarti butto dentro un nave vedo se c'è delle palle di cannone ah dici di abbordarla si si ok anche perché mi sa che sono finita abbordaggio in tre due uno no come sono morto ma cosa oh il capitano ragazzi l'ultima questa levati da ma checchia prendi le palle prendi le palle passino oh mio dio oh tesoro ho un tesoro no guardali guardali aiuto dove mi senti ragazzi è vacuazione è vacuazione è vacuazione ok ci sono ci siete sì io ci sono ottimo come siamo avesse ragazzi di sotto di sotto non lo so è apposta sotto ok perfetto ottimo cazzo c'erano altri due tanto sto caricando i cannoni eh qualcosa sono riuscito a recuperare sì sono andati sullo scoglio ok ma avete tirato l'altro ragazzi raga ma perché non ci muoviamo non ne ho idea raga sotto la testa no getta l'ancora però no che getta l'ancora cioè no nel senso mi da getta l'ancora quindi non è tirata giù ah e tiriamo giù un'altra vera allora io servo bravo controllo di sotto chiuso ora matte e fai manovre evasive ok no ci vengono contro mamma mia ma che noiosi usiamo l'acqua per affondargli la nave esatto ok devo allontanarmi eh no non troppo non troppo un po' ma non troppo no ma mi hanno agganciato non riesco a fare niente ho dato tutto il timone a sinistra ok mi sono sganciato ma che ho preso un'altra cassa dallo loro da ma sei un dito ma vero vero ragazzi non ci muoviamo dobbiamo si muocare ma ancora c'è ma sai perché non ci muoviamo perché le palle le palle viola quando ci colpiscono ci bloccano bloccano il timone si mi sa No, chiudi, chiudi, chiudi Si sta agganciando, si sta agganciando Ad assi di legno come si è messi? Ah, sì ce ne abbiamo Solo la fiancata a destra Pronti Prepararsi Fuoco Sempre sulla fiancata a destra Merda non ci bloccano, eh ci hanno bloccati Ci stiamo distanziando troppo Oh cazzo ma sto forziere Oh mio dio forziere del capitale l'ho trovato Evacuazione Evacuazione davvero Un forzino random Stiamo arrivando Ok sotto il posto Cavoli non riuscirà mai a salire Buttate l'ancora ragazzi Buttate l'ancora Madonna mia è una culata Gli diamo proprio Tanto avrei controllati sotto la situazione della nave Sto tirando sull'ancora io Vado lo stesso? Eh no vado io allora Però non ho asce di legno Eh allora vado io Ti lascio l'ancora vai Ok Sì perché salto un sacco di acqua Vengo conti allora Madonna ma quanti sono? Eh tanti Evacuazione? No 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 tranquillo Adesso ci schiantiamo comunque Sulla fiancata destra Prepararsi Oh mi si è baggato sotto Ok Supporto in arrivo Schianto fra tre Due Dai uno Oh affondate affondata eh Ok quindi basta Buttate l'ancora Buttate l'ancora Buttate l'ancora Ottimo Oh ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta Vai Toria spero Sì Ottimo Ottimo bravi ragazzi Pagio di un galeone segnato dalla battaglia Madonna Stai imbarcando acqua ragazzi Non lo so Sì madonna stai imbarcando acqua Oddio 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 Dove è affondata la nave ragazzi Uno controlli anche che sia tutto apposta Che non abbia rilasciato niente Altro Svizzero avvocato vince di nuovo Un nuovo titolo nel forse del Vanilla Grandi ragazzi Un nuovo titolo nel forse del Vanilla